Il tratto è quello che dalla matrice arriva fino al quartiere spagnolo, passando da Porta Carmine, Porta Spada, dal Piede del Diavolo e dal Cimitero Ebraico. Poco più di un chilometro di cammino, tra i più suggestivi ed avvolgenti, ad un tiro di schioppo dal centro abitato, carico di mito, racconti e leggende, costeggiando l'antichissima cinta muraria, il libro di pietra dove sono impressi oltre 2.500 anni di storia. Grazie a un finanziamento di 200.000 euro ottenuto dal Comune di Edice dopo la presentazione di un progetto predisposto dagli uffici, in questo meraviglioso itinerario tra archeologia e natura sarà ripristinato l'impianto di illuminazione e saranno rifatte le staccionate. Oltre alla sistemazione di tutto il percorso, da dove passa tra l'altro il sentiero Italia del CAI, sarà anche rimesso a nuovo il ponticello e realizzato un sistema di videosorveglianza. Previsto anche qualche intervento per migliorare la baida di via Pollonis, destinata a punto di accoglienza del CAI di Edice per tutti i camminatori. Le somme sono già disponibili e adesso si passerà alla fase esecutiva. Questo vuol dire che i lavori, come prospettato dal Vice Sindaco Gianni Mauro, potrebbero partire già tra febbraio e marzo, comunque non oltre la primavera, secondo i piani dell'amministrazione comunale, anche perché l'intervento dovrà essere realizzato entro 24 mesi, pena la perdita del finanziamento. Ma in arrivo ci sono altre somme destinate al Bosco di Edice, a partire da quelle che permetteranno il recupero della ex stazione d'imbarco della Funivia, dove sorgerà un museo con infopoint e servizi per gli escursionisti. L'importo a Monta ha poco più di un milione di euro e permetterà di sistemare anche altri sentieri, sempre nel polmone verde del monte. Per questo finanziamento si attende il decreto, mentre è già arrivato quello di 500 mila euro per la pulizia e bonifica del Bosco, liberando gli alberi dalle piante infestanti e alleggerendo tronchi e rami che continuano a venire giù, sempre più appesantiti. Infine è in graduatoria un quarto progetto, sempre predisposto dall'amministrazione toscano e sotto la regia del vice sindaco Gianni Mauro, di circa 500 mila euro per la realizzazione del sistema antincendio. Fondamentale visto che questo è uno degli ultimi polmoni verdi rimasti da difendere davvero ad ogni costo. Per il Bosco del Monte ci sono dunque in ballo oltre 2 milioni di euro che permetteranno finalmente di recuperarlo e valorizzarlo come merita, permettendo così di aprire nuove prospettive e puntare sull'immenso potenziale in termini di bellezza, storia e natura della montagna di Erice.